In occasione della sua visita a Cremona, il Premier Conte aveva parlato di un contributo speciale di 200 milioni di euro per la nostra provincia, oltre a quelle di Brescia, Bergamo, Lodi e Piacenza, ma nella lunga elaborazione del decreto relativo approvato dal Consiglio dei Ministri, i noti avrebbero inserito anche altri comuni nell'elenco, aggiuntivi rispetto a quelli approvati, comuni del Veneto e del Sud. L'immediato intervento per Cremona dell'On. Luciano Pizzetti e di altri suoi colleghi eletti nelle province originariamente beneficiari del provvedimento ha permesso al Presidente del Consiglio di correggere in corso d'opera il testo, eliminando i comuni aggiunti abusivamente, scatenando però così le ire dei medesimi e dei relativi presidenti delle regioni, per i quali Pizzetti ha comunque richiesto nella fase di conversione in legge del decreto lo stanziamento di risorse suppletive. Guardiamo intanto le cifre ufficiali diffuse dalla regione nell'ambito sanitario. Si parla di 15 nuovi contagi per un totale di 6.365 casi e di due mordi nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. si conferma un trend in calo, sempre meno anche i ricoverati in terapia intensiva, in aumento invece il numero dei guariti.